Dopo aver disputato l'ottava giornata di ritorno, si ritorna in campo per disputare il turno infrasettimanale, la nona giornata di ritorno, di eccellenza e di promozione. Il Licata, dopo la vittoria contro il Castellammare per 2-0, andrà a far visita il Geraci. Mentre il derby Profovara Canegati si giocherà il 13 marzo, visto che la squadra bianco-rossa è impegnata in Coppa Nazionale e domani giocherà contro il Conegliano. In promozione, l'Olimpica Agras, dopo la vittoria nel derby contro il Camarath, affronterà l'Albatros del Cara, senza Gaetano Falsone per squalifica. Il Castellammare affronterà l'Oratorio San Giro e Giorgio, dopo la vittoria nel derby contro la Gattopardo. La Libertà sarà calmuta, con tantissime difficoltà, andrà a far visita il Valle Lunga. Il Camarath giocherà in casa contro il Villabate, l'AFC Gattopardo affronterà in casa il Balestrate.